Non sono mancati in questi anni momenti di grande tensione. Per questo motivo la vendita degli alloggi di Via Lazio a Montesilvano sono un obiettivo raggiunto importante in meno di tre anni dall'amministrazione. Lo ha detto il sindaco Carlo Masci a margine della conferenza che ha svelato il piano di riqualificazione del fabbricato di cui Pescara ne detiene il 49%. Gli alloggi, 59 di proprietà, sono stati sgomberati. Gli aventi diritto ad essere ricollocati una ventina sono stati trasferiti in altre abitazioni tra Pescara e Montesilvano. Ora il bando pubblico con scadenza determina il 14 ottobre. Base d'asta 1.465.000 euro. Era giusto in primis dare dignità a quelle famiglie che ormai convivevano in una situazione terribile sotto tutti i punti di vista, igienico-sanitari e di sicurezza. Quindi dopo un duro lavoro effettuato anche con la Polizia Municipale di Montesilvano e lo stesso comune di Montesilvano abbiamo fatto diversi censimenti e quindi abbiamo potuto dare una risposta migliorativa a quelle famiglie, ovviamente togliendo quelle famiglie a seguito di un'ordinanza alla fine che non avevano più diritto. Questo a cosa ha portato? Chiaramente ha portato a ridare dignità ad una zona che sebbene non sia direttamente sul comune di Pescara, però il comune di Pescara ne detiene circa il 49% e speriamo che se qualcuno acquisterà potrà dare ulteriore dignità con una demo ricostruzione o quello che riterrà opportuno poter fare.